Allora, questo è senz'altro il capolavoro più sorgivo del romanticismo, il grande romanticismo tedesco con questo suo senso del mistero, di quanto di più nascosto, incomprensibile sta nell'animo umano. Ed è l'opera di un genio come Wagner che l'ha scritta neanche 30 anni, quindi quando le sue energie erano nella situazione più esclusiva, più piena di vitalità, più piena di forza, è un'opera meravigliosa. Non lasciatevi spaventare da quest'idea che abbiamo noi di Wagner che è pesante, che è lucro, non è vero mai, tantomeno è vero per quest'opera che veramente va via con una velocità, con una forza travolgente.